Vi siete mai chiesti come si realizza una tastiera meccanica, come si parte da un progetto e si arriva al prodotto finito? Io sì e non avevo le idee proprio chiarissime all'inizio e in questi casi ci sono due approcci, o si studia o si sbatte la testa per provarci e noi andremo a provarci. Benvenuti e bentornati nel canale, io sono Nicola Sagliano e questo è il primo episodio finalmente della playlist dove andremo a provare a realizzare, progettare e alla fine realizzare una tastiera meccanica da zero. Era da tanto che avevo questa idea in testa, dovevo aver provato già le prime tastiere e dicevo sì bella questa ma vorrei questa cosa in più, mi piacerebbe avere un layout diverso, mi piacerebbe avere materiali diversi, un tipo di montaggio diverso e ogni tastiera ha qualcosa di carino, però non ho ancora trovato sul mercato una tastiera di come ce l'avevo già in testa con alcune accortezze. Questo più il fatto che comunque mi sono appassionato molto a questo hobby, a questo mondo delle tastiere casto, mi sono detto andiamo a provare, proviamo a realizzare qualcosa. Non avevo ben idea di come si facesse, andremo a farlo insieme. Tutto partiamo dalla bozza, dall'idea, alla progettazione, alla modellazione in 3D, alla parte della PCB, alla prototipazione, test. Arriviamo, si spera, ad un prodotto finito, non so di che fattura, speriamo a un buon prodotto, ma qualsiasi cosa arriverà noi la prenderemo come tutta esperienza. Sto raccontando, questo primo episodio sarà un po' un'introduzione, perché ci sono tanti concetti, è un percorso complesso, non posso partire subito con la realizzazione, quindi questo video introduttivo alla serie è assolutamente necessario. Partiamo dalla domanda base, come si arriva da un'idea, da un pensiero, a concretamente realizzare una tastiera di questo tipo? La prima cosa è iniziare a ragionare su che materiali uno vuole realizzare la tastiera. Vi ho già accennato, sarebbe fighissimo arrivare ad avere una tastiera in alluminio, fatta con lavorazione in macchina CNC, però è complesso. È complesso perché se si parte senza esperienza è molto facile fare errori, e è un attimo creare un progetto che magari sulla carta, su il software dietro è tutto bello, tutto figo, poi si va in stampa, ci sono dei problemi. Lavorazioni di questo tipo costano parecchio, e fare tante tante lavorazioni pagate da me, che magari vanno male e la tastiera risulta problematica, non funziona, non si incastra, qualsiasi altra cosa, non è sicuramente la cosa più furba. Quindi noi andremo a realizzare il modello della tastiera, e come prima base, che sarà comunque quello che io già ritengo una vittoria per questa serie, è arrivare a stampare la nostra tastiera, con la stampante 3D che avete visto nell'altro video, la Artillery Genius Pro. Andremo ad assemblarla con la PCB che verrà offerta dal nostro sponsor, che ancora una volta è PCBWay, così possiamo finalmente però andare a utilizzare questo sponsor, che vi sto annunciando da un po' di tempo. Andremo a disegnare la nostra PCB Custom, la manderemo in stampa a loro, così vedremo anche un po' la loro qualità di stampa, e probabilmente anche il primo plate sarà stampato da loro sempre in FR4, lo stesso materiale della PCB, perché è più pratico e più conveniente che non andare a fare un plate magari in ottone, magari ci saranno fasi successive in cui avremo quei materiali. Primo step, prima bozza funzionante, l'FR4 andrà benissimo. PCBWay offre anche la stampa direttamente in 3D, però avendo una stampante io e soprattutto nei primi tempi dovendo fare tante modifiche ho provato a stampare tutto io anziché a dare a loro l'opportunità di stamparla, magari una fase intermedia dopo che abbiamo il modello funzionante si potrebbe far stampare a loro perché sarà più comodo farlo un unico pezzo, mentre io dovrò stampare due barra tra pezzi per poi incollarli, per far stare il modello dentro l'area di stampa della Artillery. PCBWay poi offre anche la lavorazione CNC dell'alluminio e di altri materiali, quindi non è da escludere che una volta che il progetto sarà finito potrei dare anche a loro il compito di stampare almeno il primo modello del primo progetto in CNC per verificare la fattibilità e che tutto funzioni bene e avere effettivamente un primo prototipo di tastiera al 100%, come ce l'ho in testa, in alluminio, con tutte le chicche che ho pensato. Però diciamo che non fisso l'obiettivo ad avere la tastiera in alluminio, mi va bene quella stampata perché dopo il costo del CNC è abbastanza elevato, non è detto che PCBWay sponsorizzi quella parte e dà il modello in 3D stampato al modello in CNC, che sono delle lavorazioni completamente diverse, ci sono ancora delle fasi di problemi e quindi magari un modello funziona, quella poi stampata in CNC non funzionerebbe e devo stamparli diversi, quindi ci possono essere un po' di problemi. Detto questo è anche importante farvi capire che questa serie di video non sarà un tutorial, non vi spiegherò passo passo come creare una tastiera da zero, nel senso questo è il programma, si fa così a fare questa funzionalità perché sarebbe troppo complesso, troppo lungo, i video sarebbero infiniti e d'altro canto non mi sento neanche di avere le competenze per raccontarvi un tipo di video del genere. Io faccio ogni tanto dei tutorial su software, su programmi, ma sono programmi che utilizzo. Io in passato ho avuto qualche esperienza di modellazione 3D con programmi tipo Blender e altri, anche Sketch, però non ho le competenze e infatti sarà un'impresa anche per me arrivare alla conclusione di questa serie. Utilizzeremo Fusion Autodesk 360 che è anche la prima volta che utilizzo. Ho seguito i tutorial di Help3D che ha fatto un tutorial stupendo su Fusion, magari ve lo lascio linkato qui in descrizione, mi sono seguito tutto quel corso, ho imparato io in primis il programma, quindi farvi un tutorial passo per passo non avrebbe senso, non ho le competenze, non ho progetti alle spalle che giustificherebbero un tutorial, quindi sarà più che altro un racconto. Vi racconterò un po' quello che ho fatto, perché ho preso certe decisioni, tutti i problemi che si alterano fuori, perché ho fatto una cosa in determinato modo, poi l'ho cambiata e ce ne saranno, ce ne saranno sicuramente tantissimi. Oltre a Fusion per la realizzazione del modello 3D andremo a utilizzare KeyCad 6 per la realizzazione della PCB, anche per quanto riguarda la PCB non è che abbia un'esperienza formidabile, ho un po' di basi di elettronica data dalla scuola, sono sempre stato un po' uno smanettone con Arduino, con piccoli circuiti, però da qui a realizzare comunque una PCB che non è proprio una cosa facilissima, tra l'altro una tastiera intera che ha diverse difficoltà, ci sarà un po' di problemi sicuramente, ci affideremoci un sacco di progetti open source per fortuna già realizzati per le PCB, noi andremo a prendere a mani basse i loro progetti, li studieremo, cercheremo di capire qual è il più adatto, cosa possiamo cambiare, cosa possiamo tenere e ci baseremo su quello, noi abbiamo una base solida fatta da qualcuno che ha sicuramente più esperienza di me in quell'ambito e renderà tutto un pochino più semplice. Dopo questa piccola introduzione a tutto partiamo con qualcosa di un po' concreto, che è formato stamperò? Stamperò una tastiera 65%, non grande quanto la Toff, è stata un pochino più grande perché saranno sempre 65 tasti ma leggermente spostati, recuperò un pochino più di spazio, questo per avere un pochino di gioco anche nella parte frontale per aggiungere qualche decorazione, in realtà se vi sto parlando dopo che ho già progettato comunque la tastiera, sono ancora indietro sulla PCB però la tastiera l'ho già progettata, potrei già spellerarvela però ci sarà il video successivo che sarà solo la progettazione, quindi ci teniamo tutto per il video successivo, però ho scelto di fare un 65% per due motivi principali, il primo che è il formato che mi piace di più, che trovo più comodo, quindi come prima tastiera non vedevo perché non fare un 65%, e poi c'è da dire che è il formato abbastanza comodo perché non è troppo grande, quindi sia per la stampante non richiede stampe troppo lunghe, è tutto un pochino meno costoso perché stampare anche una PCB molto più grande richiede di più, sarà comunque una tastiera con una PCB saldabile perché fare una tastiera hot swap aggiunge ancora più complessità nel andare a recuperare i componenti per l'hot swap e voglio tagliare al minimo tutti questi problemi, e quindi una tastiera più piccola e più veloce poi da saldare nella fase di assemblaggio, se ci sono problemi, c'è meno sbatti, è più comodo, potevo fare una 60 addirittura, però una 60 gli dà molto meno gioco per fare una cosa un pochino più personalizzabile, diciamo che le 60 sono un pochino tutte uguali, a parte il montaggio, la scelta di come montare il plate, sul davanti non hai molto molto spazio di gioco, divertimento. Vi dirò poi la verità, la parte del nome è stata molto dura, avevo in mente diversi progetti, poi come sempre uno aveva delle idee geniali, sono andato a cercare, ho detto non è che qualcuno mi ha già fatto una tastiera con un nome del genere, la stragrande maggioranza delle idee che mi erano venute in mente erano già state prese, poi grazie anche alla mia ragazza che mi ha dato una mano, sono andati un po' a rivangare tutte, le cose che mi piacevano, animali, pokemon, alla fine il sunto di tutta questa mega ricerca è finissuto nella volpe, perché è un animale che mi è sempre piaciuto, l'avrei sempre voluto tatuare insieme anche alla fenice, poi non l'ho mai fatto e mi piace un po' questa ideologia di dire ok non me la sono tatuato poi alla fine, perché negli anni mi è passata un po' la voglia di avere dei tatuaggi, però l'avrei voluto fare. È un modo tanto come un tatuaggio, dedicargli una tastiera mi piace, il nome pensavo, o rimaniamo sull'italiano, volpe, però volpe 65 non so, non mi suonava bene e soprattutto perché poi il nome l'ho riutilizzato sulla tastiera, quindi alla fine è rimasto Foxy, suona meglio secondo me, Foxy 65 sarà il nome della tastiera e sarà anche l'elemento distintivo che troviamo nella tastiera, ho scelto di integrarlo in modo molto molto forte tra il peso e il case della tastiera, probabilmente forse avrete visto il render nella copertina del video, quindi in realtà magari lo sapete già pronto, non sono tante sorprese, nel senso poi già il prossimo video vedremo come ho realizzato quella parte, quindi non ve la voglio spellerare troppo ma la vedremo a breve. Arrivando al concreto, una volta deciso il layout e il nome, che alla fine sono un pochino decisioni facili, dobbiamo scegliere quali e quanti layout diversi supporteremo all'interno, era un po' indeciso su cosa supportare perché ovviamente più layout mettiamo a disposizione, più la PCB sarà complicata perché i fori sono vicini, diciamo che questa prima versione essendo saldabile potevo supportare volendo tutti i layout del mondo, andando magari in futuro per una versione autoswap, la parte dietro della PCB autoswap va a occupare spazio, quindi poi bisogna girare i singoli predisposizioni degli switch per non andare in conflitto, avere gli spazi per incastrare tutto, diciamo che ho scelto già adesso di andare su una via di mezzo per poi quando passeremo all'autoswap non dover cambiare troppo la PCB. Per definire il nostro layout utilizzeremo un sito che si chiama Keyboard Layout Editor, è un sito molto semplice che lavora alla base con dei json, della configurazione e ci dà la possibilità di disporre i tasti, partendo da una notazione al 65% possiamo andare ad aggiungere i tasti che vogliamo per avere fuori un json che daremo in pasto poi ad un altro sito per generare la forma del plate. Questi siti sono una mano del cenove che vanno a togliere un sacco di lavoro tedioso e di per sé inutile, non molto creativo perché ormai i layout sono tutti abbastanza standard, i plate, i fori dei plate hanno una dimensione standard, andare lì a ricalcolarsi tutto a mano ogni volta sarebbe stupido. Questa parte del sito è molto carina in realtà perché poi basta prendere un tasto, posizionarlo, scegliere la dimensione, possiamo spostarlo. Io ho scelto di sopportare il caps lock normale e quello stepped perché comunque è molto facile da fare ed è una cosa in più molto carina. Lo split della backspace perché so che qualcuno piace, è una cosa che anche a me non dispiace in alcuni layout e quindi ho scelto di sopportarla. Ho scelto anche di sopportare la barra spezzatrice da 7 andando ad adeguare tutti i tasti modificatori a sinistra e a destra in modo adeguato se uno vuole utilizzare la barra da 7. A livello di layout si può fare molto di più ma anche molto di meno dicendo non supporto nessun altro layout così è molto più semplice anche la realizzazione della PCB. Però anche qua mi sono voluto un pochino sfidare anche perché se poi in futuro vorrò supportare molti più layout mi sono già tolto una grande magagna. Capendo come dovrò fare con il plate e poi anche con la PCB con eventuali keycaps che si devono incastrare bene diciamo è un lavoro in più che mi sono già tolto. Prima di arrivare al posizionamento corretto dei tasti sull'editor avevo già un po' in mente come sarebbe stato il frontale della tastiera e così la colonna di sinistra ho scelto di spostarla leggermente. Questo mi avrebbe garantito poi di far passare lì un po' di struttura di tastiera perché volevo avere un po' il divisore tra la parte di scrittura e i tasti modificatori a destra. Nulla di esagerato però qualcosa che mi permettesse poi di aggiungere una piccola decorazione anche nella parte davanti. Una volta finito con questo layout andremo a recuperarci il file json che ci genera per andarlo a inserire in un altro sito che ci genererà il file dvg con i fori del plate e sarà la base di partenza con cui andremo su Fusion a progettare poi effettivamente la tastiera attorno alla sagoma che abbiamo definito. Però lo vedremo nel prossimo video. Io vi lascio qui la playlist con tutti i video di questa serie che al momento sarà vuota ma prossimamente arriveranno tutti così avete la playlist se volete seguirvela con calma e anche la playlist di una tastiera per due, la serie che sto portando dove faccio provare le tastiere meccaniche ad altri youtuber, influencer perché insomma è molto molto interessante. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa vorreste vedere, magari approfondimenti in più, qualsiasi cosa è preziosissima e grazie per il supporto.